Dal libro che ha acceso le nostre fantasie, è nato un film che ha conquistato i cuori di milioni di persone. Ricordate l'emozione. La magia. E la musica. Ora, per la prima volta in assoluto, vivrete la straordinaria storia di amicizia, magia e avventura in uno speciale concerto-evento live. Harry Potter e la pietra filosofale in concerto. Ammirerete uno tra i film più amati, come non lo avete mai visto. Rivivi l'avventura di Harry e dei suoi amici con un'orchestra sinfonica che esegue dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di John Williams e l'intero film proiettato sul grande schermo. Non mancare a questo magico evento live di Harry Potter e la pietra filosofale in concerto il 2 e 3 giugno a Napoli, alla Aetes Arena Flegrea. Wicked.